bene buonasera a tutti dirò pochissime parole essendo una sorta di clandestino a bordo perché sono l'unico donarcheologo a questo tavolo e ringrazio ovviamente il festival per il festival del classico del classico per l'invito dirò soltanto proprio una battuta sul sul titolo molto scherzoso che abbiamo dato a questo incontro che l'amico ugo cardinale ha condiviso fin dall'inizio perché avremmo dovuto parlare di ercolano pompei e pestum abbiamo intitolato l'incontro tre allegre ragazze morte qualcuno di voi conoscerà un gruppo molto di musicisti particolarmente bravi i tre allegri ragazzi morti che suonano sempre travestiti e ci sembrava che questo titolo ironicamente potesse alludere alla grandissima vitalità di queste tre in questi tre parchi archeologici così importanti che non smettono di riservare sorprese siamo passati per molti versi da fasi di triste emergenza a fasi di felici emersioni e continue emersioni le le novità che che periodicamente emergono da questi spazi sono assolutamente straordinarie e soprattutto poi c'è il l'enorme vantaggio lo straordinario vantaggio in queste tre in questi tre grandi parchi di potersi confrontare con quel che resta molto della vita quotidiana della vita materiale dell'antico e non è non è mai un'esperienza di poco di poco momento e nel dare la parola poi ai tre direttori di questi parchi che sono tiziana d'angelo per il parco archeologico di di pestum e di elea delia che è un completamento un corollario non non secondario non irrilevante gabriel zuchtrigel per il parco archeologico di pompei e francesco sirano per il parco archeologico di ercolano vorrei introdurre questa nostra conversazione tributando un piccolo omaggio a uno dei più grandi scrittori italiani del novecento anche lui nemmeno lui era archeologo e quest'anno ricorre essendo nato nel novembre il 15 novembre del 1922 ricorre il suo centenario purtroppo il suo centenario è stato schiacciato da almeno due centenari molto più importanti e famosi cioè quello di della morte di marcel proust e quello della nascita di pierpaolo pasolini lo scrittore è giorgio manganelli al quale l'editore franco maria ricci nel 1986 commissionò una serie di scritture a commento di immagini e non si trattava di una ecfrasis cioè di una descrizione delle immagini arte nobilissima antica si trattava proprio di improvvisi per macchina per scrivere come li chiamava lui cioè improvvisazioni costruite proprio a partire da da immagini da sensazioni e c'è un una di queste puntate apparse sulla rivista di franco maria ricci si chiama il desolato sublime ed è totalmente dedicata a pestum ma contiene delle indicazioni che probabilmente potrebbero costituire uno stimolo anche per chi rifletta su ercolano e su e su pompei ultimissima notazione prima di manganelli perché una pagina una bellezza incomparabile che andrebbe letta da un attore e non da me già i nomi propri di queste allegre ragazze morte sono particolarmente significanti perché abbiamo due città che sono intitolate a figure le città che in fondo si consegnano al sacro ercolano a eracle a ercole e poseidonia a poseidone mentre pompei ha un nome profano e anche questo probabilmente ha incide sulla sulla nostra riflessione allora ecco vorrei leggervi quello che scrive manganelli su 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 pestum e cogliere in questo modo l'occasione per dare la parola a tiziana d'angelo per il primo intervento piranesi aveva ragione sapete che piranesi andò a fine carriera a pestum e lavorò tantissimo su quel sito la sublimità della desolazione non avrebbe agito così potentemente se non fosse stata affidata al magistero geometrico delle colonne indifferente alla grazia ionica alla preziosità corinzia la durezza d'orica delle colonne di pestum proponeva intatta l'immagine di un certo rapporto con il sacro un rapporto antico ma che per sua natura in nessun caso poteva perdere dignità farsi nera rovina l'ordine d'orico aveva una coerenza essenzialmente matematica era un tributo pitagorico un omaggio platonico quelle colonne erette nella solitudine avevano lo stile di antichi nomi erano immagini statue persone erano presenze votive segni esemplari e annunciavano un messaggio che silenzioso per millenni riemergeva con intatta intensità la severità di un canto arcaico la scansione cerimoniale di una schiera di celebranti e un progetto estetico che imponeva il sublime nella sua forma più schietta sobria taciturna e insieme lo legava a una consacrazione delle forme a una luminosità della pietra al confronto i templi romani erano frivoli ed erano veramente rovine giacché avevano rinunziato alla disciplina acre del sublime roma era una splendida città morta un repertorio di squisite memorie ma pestum non era una memoria era una apparizione un miraggio forse le sue proporzioni minatorie ed esigenti erano un'immagine indimenticabile trovo questa pagina indimenticabile e questo scrittore indimenticabile da consacrare al canone della grande letteratura europea del novecento quindi con le parole di manganelli chiederei a tiziana d'angelo di raccontarci pestum quello che è e quello che sarà anche le prospettive di questa allegra città morta innanzitutto buonasera buonasera a tutti pestum come città viva credo che sia una una descrizione che gli rende assolutamente giustizia e il fatto che che siano i templi in un certo senso a mantenere quella vita riflette anche la storia appunto di di un sito che a differenza di pompeio ercolano che che riemergono quindi che che sono poi anche fondamentalmente legate a un evento catastrofico ad un evento che appunto è legato alla morte di una popolazione invece a pestum quei templi in realtà sono davvero sopravvissuti sono davvero rimasti in vita sono templi che si legano al più o meno non proprio all'inizio della della storia di della colonia di poseidonia poseidonia viene fondata all'inizio del sesto secolo avanti cristo quei templi quei tre templi che noi che noi vediamo si collocano tra la metà del del sesto e la metà del quinto però è un periodo in cui in cui la città sta in cui in cui viene costruita quindi la vita cioè noi dobbiamo proprio immaginarci una città che in quegli anni era era un cantiere dobbiamo immaginarci quando quando si vedono quelle colonne quando si vede quella maestosità quando si deve pensare a come sono stati costruiti si deve pensare ai agli schiavi si deve pensare agli architetti che c'erano dietro si deve pensare ai pittori a tutti coloro appunto in quel in quelle pietre nella decorazione pittorica che viene che è conservata anche se appunto non ovviamente visibile a occhio nudo ma tracce appunto di policromia sono sono sopravvissute noi vediamo il vediamo proprio la vita vediamo questo questo lavoro ed è in effetti la la reazione che che sia i visitatori oggi hanno quando arrivano a Pestum questo questo senso del sacro questa potenza del sacro e quest'idea di una città viva e poi è ovviamente legato alle esperienze del del Grand Tour appunto ha citato Piranesi ma anche Goethe o Winkelmann che all'inizio entrambi non 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 completamente non convinti ma ma in un certo senso incuriositi e al tempo stesso anche rimango rimangono in un certo senso pietrificati proprio di fronte a queste rovine le devono comprendere però quando poi appunto Goethe arriva a Pestum tutto a un tratto per lui tutto ha senso allora è allora già questa riscoperta di questa grecità in in Italia quindi e questo e questo è vero è vero anche oggi tra l'altro vediamo se noi parliamo di questi templi ma qui abbiamo anche un altro tempio che è stato scoperto dal mio carissimo collega che qua c'è una foto tra l'altro che è quella che avevamo fatto assieme vediamo se vediamo se adesso sono a lupo e vi farò vedere perché girano e quindi in un certo senso questa vita e questo sacro di Pestum tornano poi costantemente e ci ci ricordano che i nostri scavi i nostri progetti di scavo il cui obiettivo è quello di tenere in vita questi siti ma anche di dargli una nuova vita e quindi le città che riemergono progressivamente ed è proprio un altro tempio che che Gabriele ha scoperto nel 2019 all'estate del 2019 e che poi sono state fatte appunto delle delle indagini georadar e che adesso stiamo stiamo scavando e e quindi in un certo senso la questa tradizione della religione questa tradizione della potenza sacra si si esprime adesso in questo altro tempio che è un altro tempio dorico quindi si colloca all'inizio del del quinto secolo avanti cristo e ecco qui siamo nel tempio di Nettuno invece con un progetto che abbiamo con un'associazione di scampia delle vele e quindi ricordo che quei bambini quando sono entrati nel tempio di Nettuno hanno detto questo è il giorno più bello della mia vita ha detto una di quelle di quei bambini ed è incredibile quindi pensare proprio all'impatto che queste che non sono davvero solo delle rovine in un certo senso possono avere sul nostro pubblico e quindi non non solo per delle foto quindi qui questa è una serata d'estate quando abbiamo rinaugurato l'apertura dei dei templi i templi erano erano stati aperti erano accessibili al pubblico all'interno già dal 2017 dal 2019 durante la pandemia ovviamente si è stata sospeso all'accesso all'interno e quest'estate l'abbiamo rinaugurato e ovviamente appunto quella potenza quella potenza che può avere l'impatto che può avere entrare a poter camminare tra queste colonne è qualcosa di di assolutamente di assolutamente incredibile e quindi stavo appunto dicendo che anche con le nostre nuove ricerche con i nostri scavi in un certo senso quella quella vitalità appunto che viene descritta in queste pagine torna torna nuovamente quindi speriamo insomma di potervi di potervi raccontare altri altri aspetti grazie no no grazie a lei questo riferimento a scampia e al valore emancipativo della bellezza da un lato mi faceva pensare a simon veil che portava le si che portava le antigone di sofocle presso le operaie e quindi le emancipava attraverso attraverso la bellezza non attraverso una catechesi ideologica fortemente ideologizzata ma attraverso il confronto con la potenza del testo del testo sofocleo e ha servito un assist molto ghiotto per su strigel perché la sua direzione di pompei è contraddistinta da un da un rapporto con da un confronto con i problemi sociali molto molto intenso molto forte e un esempio per spicco di 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 questo lavoro di anche di apertura del parco archeologico a un mondo che altrimenti il parco nel parco nell'antico avrebbe mai frequentato è rappresentato da un da un progetto che su strigel ha realizzato insieme a un ottimo regista teatrale marco martinelli ed è un progetto che ha avuto come esito provvisorio ma già molto 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 significativo sogno di volare che è una riscrittura questo farà piacere al professor Luciano Canfora una riscrittura ad opera di studenti delle scuole del comprensorio di pompei ma non solo degli uccelli di aristofane quindi i ragazzi si sono in un lunghissimo seminario lunghissimo laboratorio si sono appropriati del testo di aristofane e lo hanno riscritto riformulato ritradotto calibrato sui propri desideri i propri sogni le proprie paure e il risultato posso testimoniarvi un risultato assolutamente straordinario peraltro sta avendo anche una circolazione e quindi è un lavoro di grande di grande importanza ecco chiederei proprio a Gabriel Zutrigel di fare una una riflessione su questo su questo su questa grande apertura del parco a questi a questi mondi e poi raccontarci anche la pompei di adesso e le sue le sue prospettive grazie per me forse dopo vediamo anche alcune foto è stato molto emozionante nonostante tutto il lavoro che avevo seguito sin dall'inizio ovviamente ma vedere poi la messa in scena che era il segnale della riappropriazione di questi ragazzi che altrimenti non sarebbero venuti nel parco se non coattamente con le gite scolastiche e questo mi riconduce a un altro aspetto che avevo valutato se o meno introdurre qua perché un po' delicato ma anche le foto di Ercolano mi incoraggiano a fare questo allora le la ragazza e le tre ragazze morte ogni tanto succedono degli attacchi dentro pompei di cardiaci noi abbiamo un servizio medico e a volte sono con esito letale e questo all'inizio molto spaventato quando la segretaria mi ha delicatamente fatto sapere che anche questo può capitare a pompegno dunque noi abbiamo un servizio medico però purtroppo a volte accadono dei fatti anche anche gravi e a volte addirittura letali e normalmente si dice che è il caldo però a tal proposito voglio ricordare che nel 2018 un visitatore ha subito un attacco cardiaco in una sala completamente climatizzata degli uffizi davanti alla venere di Botticelli e allora nei media si parlava della sindrome di Stendhal che proprio a Firenze nasce quando nel 1817 Stendhal visita non gli uffizi non il duomo la basilica della Santa Croce e ha questa forma di estasi che poi il pulpito la respirazione e negli anni 70 una psichiatra di Firenze mi sa si chiamava Gabrielli nota che molti turisti hanno dei sintomi simili e dunque nasce così il sindrome la sindrome Stendhal ovviamente per noi noi da un lato come archeologi siamo abituati a guardare la morte da un punto di vista molto scientifico a Pompei il il momento più più vicino a questo per me sono sempre stati i calchi sapete che ci sono i calchi di mobili di tutti gli oggetti organici ma anche delle persone che sono morte non tutte perché dipende dalla dinamica dell'eruzione la seconda fase dopo una lunga pioggia di di lapilli di pietre vulcani che poi arrivano i flussi piroclastici che sono cenare polvere avvolge tutto quello che c'è ancora così anche le persone che muoiono sull'istante i corpi poi si disintegrano e lasciano nel nel suolo che diventa solido duro un vuoto una specie di di impronta che può essere poi riempita di gesso e si ottiene così che cosa la che cos'è è un reperto e la persona è una cosa molto molto difficile ma sicuramente molto molto toccante però non è questo come dire il il problema magari no di sindrome stendhal perché alla fine diciamo i problemi i problemi cardiaci nel pacco che sono circa il 20 per cento di tutti circa 600 interventi che facciamo all'anno di più di uno al giorno sono alla fine sono nella media di quello che non sa un aeroporto un centro commerciale problema piuttosto un altro che possiamo chiamare la sindrome del del collezionare del collezionista che non è solo chi colleziona opere antiche che una cosa incomprensibile per noi penso perché sostituisce alla alla conoscenza la passione alla ricerca il possesso ma quindi diventa tutta una questione che cosa che cos'ho che cosa hanno gli altri sarebbe qualcosa per la mia collezione ma questo ovviamente con danni per la l'archeologia immensi perché crea un mercato crea tutto una richiesta e questo fomenta gli scavi clandestini per quanto si voglia sempre cercare di controllare le provenienze tutt'altro però vediamo quotidianamente che non funziona sono anche musei che comprano opere di dubbia provenienza e proprio adesso siamo impegnati in un caso clamoroso forse la migliore copia del doriforo di policleto opera famosa del quinto secolo avanti non conservata che oggi si trova negli stati uniti a minneapolis proviene evidentemente c'è provata nelle carte che la procura ha studiato da castellamari di stabia vicino a pompei fu esportata clandestinamente nelle nelle negli anni 70 offerta al museo di monaco e poi venduta negli stati uniti speriamo che anche con l'aiuto della della la stampa della comunità possiamo trasmettere chiara chiaramente questo messaggio che non è giusto e che deve tornare in italia ma il questo a questa sindrome è molto più ampia perché c'è uno studio interessante sulla le motivazioni dei visitatori di musei dei parchi e anche lì riappare questo tema del collezionare c'è un grande gruppo che che colleziona esperienze e come dire per fare la crocetta no pompei visitata l'ouvre visitato dunque quei quei luoghi dove uno deve essere stato e questo fa sì che uno va lì alla ricerca di quale che cosa devo aver visto a pompei è molto grande così come anche ercolano e pestum e dunque quale il highlight o quale il percorso che che cosa è il racconto che io dopo devo in un qualche modo reiterare e confermare e a volte questo confina purtroppo abbastanza spesso quanto pare nella prendere collezionare proprio degli oggetti noi a pompei ogni settimana riceviamo delle lettere di anni a volte decenni fa di gente che rimanda indietro lapilli pietre a volte frammenti ceramici a pompei siamo fortunati sfortunati non so c'è una leggenda che questi oggetti portano sfortuna e dunque a volte la gente accompagna queste queste spedizioni con delle lettere a volte toccanti dove raccontano tutte le sciagure che hanno subito e ho letto di tutto dalla da malattie gravi al divorzio alla perdita del posto di lavoro e dunque a volte veramente sono pagine e pagine e dunque questo evidenzia il problema del collezionare perché quello che prendi dopo un po' si rivela essere un po' un peso dunque ci sono vari gruppi di visitatori poi l'idea della conoscenza è la buona ma poi a volte si limita a ricevere passivamente delle informazioni cercare di riempirsi di un sapere che però non viene veramente assordito qual è il gruppo a cui Stendhal sarebbe appartenuto c'è un altro gruppo che nello studio americano non poteva essere diversamente si chiamano i spiritual pilgrims che è gente che va al museo per ricaricarsi di energia per fare un'esperienza quasi spirituale nel senso di di trovare se stessi ma anche di andare oltre se stessi di perdersi in un qualche modo di vedere qualcosa di più grande di ecco avere un incontro vero e questo mi ricorda qualcosa che Stendhal scriveva in questa descrizione che per me erano sempre le due frasi più affascinanti e più enigmatiche anche in un qualche modo che non è quello dove scrive quando esce che sente che teme di cadere perché il cuore le fa questo ma sono due frasi che dice prima dice tutto questo parla così vivamente alla mia anima poi dice ah se io potessi dimenticare perché dimenticare perché non lo so onestamente non lo so ma ho delle idee perché questo incontro con la cultura materiale l'opera ma anche il calco della vittima il tempio la casa ercolano ci sono delle bellissime case con il primo piano tu entri e sembra una casa appena lasciata dagli abitanti lo stesso a pompei lo devo dire lo stesso anche se sappiamo che ercolano sono ancora più alte allora questo presuppone un'apertura è una una specie noi in un qualche modo dobbiamo dimenticare tutto quello che a scuola ci hanno insegnato quello che è importante quello che è meno importante a volte quello che ci parla parla la nostra anima non è non è la gioconda nel l'uvre ma forse un quadro insignificante secondo la guida che però in quel momento per la nostra storia ci tocca e ci crea questa apertura che poi speriamo che non finisca con l'attacco cardiaco ma comunque va in quella direzione che per me è stato sempre il vero senso di questi luoghi trovare questo e dunque la nostra missione in qualche modo è come aiutare ai visitatori a trovare questo momento e per cui è una cosa che funziona solo insieme quindi noi possiamo fare la nostra parte ovviamente ovviamente prevede anche un'apertura ma per questo come dire io sono stato sempre molto scettico sull'uso della tecnologia anche nei musei che è importantissima ovviamente ci aiuta puoi vedere non so i muri di fondazione capire com'era l'edificio ma dobbiamo anche lasciare lo spazio per questo tipo di incontro e dunque il percorso va bene oggi si può fare in maniera molto poco invasiva con un'app chi vuole la scarica fa tutto il percorso diamo tutte le informazioni ma dobbiamo anche lasciare la libertà di trovare ciascuno la sua Pompei e se guardiamo anche nella storia di Pompei ma anche di Pestum di Ercolano vediamo come i grandi scrittori artisti abbiamo sentito di Piranesi Piranesi aveva una visione molto originale in un qualche modo contrastante di Pestum in quel caso rispetto a quello che era la narrazione comune in quell'epoca e alla fine loro erano come noi non erano dei erano grandi artisti ma questa forma di ecco per visitare un luogo della cultura dobbiamo tutti essere un po' artisti tutti essere un po creativi altrimenti possiamo solo riprodurre delle visioni che altri ci suggeriscono in causa da Zuchtriegel questo questa città nella quale il proprio la vita privata è un si presenta nella sua oggettività nella sua materialità e tu sei un narratore formidabile di Ercolano che un'altra città che ferisce per la sua potenza per la sua potenza il suo potere di suggestione la sua assoluta bellezza ecco raccontaci qualcosa anche perché Ercolano ha una caratteristica un tratto distintivo fondamentale c'è una città in cui possiamo eccezionalmente confrontarci anche con la dimensione organica della vita del degli Ercolanesi all'altezza del 79 il 79 dopo Cristo c'è tutto un un mondo che è sopravvissuto nella maniera in maniera veramente imprevedibile e quindi Ercolano è un unicum per molti versi ecco se questa unicità tu ce la raccontassi sì Ercolano è un unicum e fa parte è una delle gemme di una sola corona perché siamo un solo sito insieme a Oplontis e a Pompei ed è significativo questo perché UNESCO chiaramente non regala questi queste attribuzioni e proprio è stata colta questa peculiarità di ciascuno dei tre elementi di questo sito seriale che a me sembra sempre serial killer quando sento ma questo sito seriale che proprio ci fa capire che facciamo parte invece di un mosaico che restituisce che cosa restituisce una quotidianità che apparve fin dall'inizio del della scoperta nel 1738 come una delle caratteristiche incredibili che suscitarono più entusiasmo e più curiosità in tutti gli ambienti non solo degli antiquari e degli interessati in generale persone di cultura d'Italia ma d'Europa fu un fenomeno internazionale la scoperta degli scavi nel 38 di Ercolano a partire dal 48 di 1700 sempre di Pompei e sono delle scoperte e proprio si puntualizzò che cosa la quotidianità l'emergere di una vita romana quotidiana cosa che non era fino a quel momento assolutamente nemmeno immaginata perché la cultura l'immagine della cultura classica romana era basata sulle conoscenze che provenivano essenzialmente dalle fonti letterarie oppure da quelle poche scoperte archeologiche tra virgolette perché non esisteva neanche l'idea di uno scavo archeologico che fortuite che avvenivano erano avvenute a Roma in prevalenza poi anche in altri luoghi ma come al solito emergono poi alle croniche le cose che riguardano Roma per la peculiarità di questa città e lì si trovavano statue si trovavano le famose grottesche si trovavano una serie di elementi che non sono il quotidiano e invece questi scavi di Ercolano fin dall'inizio cominciarono a mostrare elementi di vita quotidiana che venivano facilmente interpretati capiti e questo suscitò una grandissima enfasi e pensate che nel 1738 cominciarono gli scavi nel 1739 c'è la prima lettera di un francese che scusate ovviamente si lamenta con la sorella dicendo ma questi cafoni mi hanno trattato malissimo mi hanno messo in una cesta mi hanno buttato giro un pozzo per farmi vedere il teatro di Ercolano mi hanno trattato di dare le gardien sono una cosa tremenda e invece scusate abbiamo cominciato da un anno immediatamente invece andarono dappertutto arrivavano superarono diciamo le colonne d'Ercole del Grand Tour che erano fisse su Roma per andare nel Regno di Napoli per andare a visitare questi siti e questa tendenza di questo quotidiano che serve anche ad ispirare questa è un'altra cosa che a me ha sempre colpito perché gli scavi di Ercolano diventano un affare di Stato poco dopo la loro scoperta perché cominciano le prime scoperte nel 1709-1710 quando interviene Carlo III che a Napoli era Carlo I re dal 1735 del nuovo regno delle due Sicilie e lui quando interviene lo fa capisce proprio coglie tutte le potenzialità anche in chiave di grandeur di questo nuovo regno propagandistica di queste scoperte e concepisce fa concepire insomma i suoi antiquari il progetto della pubblicazione di queste scoperte queste pubblicazioni non sono intese solo per gli antiquari ma sono intese soprattutto per servire ai disegnatori gli architettori, i formatori, coloro che devono fare arte quindi da un quotidiano che ha anche degli aspetti monumentali che ispira il futuro e questo è un elemento davvero se ci pensate interessantissimo e c'è stata tutta una storia gli scavi di Ercolano e gli uri di Pompei scorrono lungo quattro secoli quattro secoli le scoperte di Pompei e di Ercolano sono veramente una cosa lunghissima e in questa lunga durata ci sono alcuni motivi ricorrenti a Ercolano chiaramente tra i tanti elementi del quotidiano che più colpiscono ci sono proprio i materiali organici questo perché nonostante una sola eruzione ha avuto due esiti completamente diversi cioè il risultato finale sono morti tutti questo è chiaro le città sono state distrutte ora però le modalità dello specifico sono un po' diverse Pompei viene coperta prevalentemente dalla pillo alto fino a 6 metri questo strato che copre Pompei passa l'aria e quindi tutto ciò che è organico poi piano piano si decompone e avviene poi questa scoperta in negativo che viene fatta con i famosi calchi di cui ha parlato Gabriel a Ercolano invece arrivano i flussi piroclastici che è sempre materiale vulcanico ma fisicamente molto denso che si abbatte in successive diciamo valanghe di questa massa talmente denso dal punto di vista fisico che nonostante avesse una temperatura molto alta si parla come minimo ci sono varie ipotesi negli studiosi come minimo di 300 gradi nulla di organico brucia gli esseri umani evaporano ma invece i materiali organici rimangono tal quali imprigionati quasi sigillati sotto questa coltre di flusso piroclastico e poi diventa poi molto molto dura assume una consistenza tufacia e vengono poi scoperti addirittura il legno carbonizzato riconosciuto sin dagli scavi borbonici ovviamente in alcuni casi non subisce neanche questo cambiamento di stato cioè da organico diventa qualcosa di inorganico e quindi carbone ma invece rimane dove c'era umidità o dove c'era il mare il legno rimane legno vivo legno tal quale vivo ma tal quale e addirittura con la conservazione del colore proprio di fronte a questa così come dire cosa che si rimane colpiti di questa sorpresa di un legno che doveva bruciare e non ha bruciato noi stiamo proprio approfitto per dirlo il 13 inauguriamo una mostra al palazzo reale di Portici la villa di Portici proprio su questi legni perché loro ci restituiscono questa realtà così vicina chiaro che tutti ammiriamo gli affreschi tutti ammiriamo gli stucchi tutti ammiriamo i pavimenti a mosaico però non è che fanno parte della nostra esperienza quotidiana almeno di noi normali forse grandi famiglie se lo so potranno permettere ma noi no e invece i mobili c'è la cassa panca la culla il piccolo tabernacolo domestico i tavoli le sedie queste sono davvero delle cose che proprio colpiscono tutti non solo l'archeologo chiaramente si interroga anche scientificamente però anche noi abbiamo il nostro lato umano come già emerso da quello che ha raccontato Gabriel ma penso che il pubblico i visitatori le persone interessate hanno un contatto diretto col passato avete visto come i nostri siti sono tutti dei potentissimi specchi che permettono di andare indietro nel tempo dei portali in cui si torna indietro nel tempo e poi ci si rispece e si scopre che forse non torno solo indietro nel tempo ma mi specchio in me stesso vado a cercare il mio in altri tempi in medesimo con Percolano sono luoghi dove ci si immedesima no poverelli anche banalmente ci si immedesima in questa cosa distruzione tremenda che tra l'altro chi ha scavato Ercolano ha voluto sottolineare quindi ha lasciato Amedeo Maiuri che era questo archeologo che ha scavato sia Pompei che Ercolano ha lasciato dei grandi fronti di scavo li vedete qua guardate sono alti 20 e passa metri che era la potenza di questo strato che vi ho detto di questi flussi piroclassici questo è stato lasciato apposta verticale perché quando uno si trova sullo scavo si rende conto davvero di questa massa immensa un'onda uno tsunami di fango bollente che si è abbattuta sulla città quindi c'è un'enfasi su queste prospettive e il materiale organico è davvero un link potentissimo di rapporto immediato con il passato oltre ai mobili abbiamo anche il cibo e lì pure un'altra antologia di cose io ogni volta mi stupisco quando vado nei laboratori quindi di lì pronta un'altra mostra ovviamente perché non è che ci stupiamo noi tre nei nostri depositi e poi finisce lì purtroppo abbiamo tutti probabilmente lo viviamo come una penso di poter parlare a nome dei colleghi come una missione per cui quando noi ci entusiasmiamo di una cosa la seconda idea che ci viene in mente è quella di condividerla perché non possiamo lasciarla lì ferma e lì abbiamo dicevo sulla parte organica del cibo dalle famose pagnotte ma poi una quantità di cereali per esempio nelle più grandi varietà di grani di vario genere ma anche in quantità cioè parliamo di 200 chili proprio un intero silos recuperato abbiamo i legumi abbiamo le olive frutta di tutte le specie compresi a me ha sempre colpito i datteri cioè proprio datteri ma non uno ma centinaia è veramente una visita davvero entusiasmante proprio ogni volta che noi andiamo a rivedere questi aspetti e davvero la vita la vita che non c'è più la vita che c'era è uno dei fili il filo rosso con cui ci si può ricongiungere e anche avere questa idea personale anche io sono convinto che l'idea personale sia molto importante e che magari le applicazioni tecnologiche siano quello che devono essere cioè un ausilio che tra l'altro permette a noi di non inquinare i siti dei siti bellissimi anche come Fashion della rovina non possiamo neanche riempirli di indicazioni una volta e chiudo vi farò sorridere in ufficio mi è arrivata tutta una relazione del nostro responsabile per la sicurezza sapete che ognuno di noi c'è una dei responsabili della sicurezza sicurezza è fondamentale avete sentito possono succedere varie cose ma non così tragiche pure più normali bisogna essere preparati e quindi questa mi arriva una bellissima relazione in cui vi si dice attenzione i limiti degli impluvi nelle case e negli altri sono pericolosi c'è il pericolo di inciampo bisogna mettere il pericolo di inciampo poi c'è il muro la cosa troppo stretta la cosa troppo bassa attenzione bisogna mettere la scritta attenzione alla testa io che sono sbagliato sempre ci sbagliato capisco l'argomento così moltiplicato per x volte poi tutto tutti i cancelletti sono bassi e si può scavalcare pericolo non scavalcare cioè io andate a questa signora e si scusi cerchiamo di capirci bene io dovete passare sul mio cadavere prima che riempiate l'ercolano di tutte queste cose di pericolo di inciampo perché primo vogliamo terrorizzarli allora non li facciamo proprio venire e secondo ma stiamo scherzi ma che cosa che senso ha questo è un'area archeologica è un'area archeologica ma appunto e noi dobbiamo sfruttare questo ai fini sia diciamo didattici e possiamo sfruttare le tecnologie per esempio noi stiamo facendo questo museo digitale che avrà come conseguenza anche una serie di applicazioni come quelle che già stanno cominciando ad essere state usate a Pompei che daranno messaggi anche sulla sicurezza per carità però non avremo questa massa di pannelli che sono proprio insopportabili diciamo grazie 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 a Francesco Francesco Sirano di cui ho periodicamente la possibilità di sondare la veridicità di questi racconti e la complessità della durezza proprio del lavoro di direzione che non è non è soltanto meraviglioso che le immagini ci restituiscono ma è anche pieno di è anche un lavoro molto banausico direbbe Aristotele è pieno di banausia insomma è pieno di di impegni onerosi e e e a volte poco poco gratificanti però purtroppo purtroppo necessari piacerebbe un secondo giro perché in fondo tutti e tre i nostri eh ospiti eh hanno eh all'uso all'enorme potenziale allegorico eh di queste tre eh città eh sono sono state sono tre eh impressionanti eh allegorie eh la cultura la cultura la letteratura europea si è misurata con diciamo da Enea Silvio Piccolomini a Proust con con queste città con 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 grande eh con grandissimo interesse con dei risultati incredibili penso a un tempo ritrovato di Proust in cui Proust racconta proprio il tramonto eh il tramonto di un di un intero mondo di un intero sistema di valori quello della della nobiltà francese descrivendolo proprio paragonandolo agli ultimi giorni di Pompei quindi Pompei diventa l'immagine principe della caducità Pompei e Vercolano sono immagini di caducità mentre mentre Pestum è l'immagine di un di un rapporto felice anche con la natura e con l'ambiente circostante Pestum non ha subito la la l'usura l'ingiuria l'ingiuria del tempo però non è queste città non sono soltanto allegorie hanno anche un senso materiale fortissimo come abbiamo visto Francesco Sirano potrebbe farci una lezione splendida sulle sulle fosse settiche di Ercolano e su quello che ci insegnano le fosse settiche di Ercolano sia rispetto a quello che mangiavano gli ercolanesi sia rispetto alle malattie di cui si ammalavano e morivano ed è una lezione strepitosa che insomma suggerisco all'amico cardinale al professor Canfora di proporre magari magari in futuro perché perché è interessantissima perché lì veramente la vita materiale nella sua brutale nella sua rude franchezza si presenta mi veniva in mente però che il tema di questo festival di questa edizione del festival del classico è un tema veramente cruciale che è quello del lavoro perché tutto quello che vediamo c'è stata la parola schiavia a un certo punto Tiziana D'Angelo se ne serviva e tutto quello che vediamo è frutto di un lavoro di un lavoro durissimo ma è frutto anche di una stratificazione sociale di una compagine sociale particolarmente complessa quindi di un assetto politico socio-politico economico di una produzione schiavistica insomma siamo di fronte a un mondo che è lontanissimo che va raccontato ma va raccontato anche perché questo mondo questo sistema di valori il nostro mondo il nostro tempo non se lo sono lasciati del tutto alle spalle abbiamo nuove forme di schiavitù molti di voi staranno seguendo i mondiali di calcio i mondiali di calcio si svolgono in stadi che sono costruiti con una fatica durissima di persone le cui condizioni di lavoro e soprattutto la cui retribuzione è molto al di sotto di un livello minimo di dignità umana non soltanto professionale quindi noi stiamo riproducendo forme di schiavitù non abbiamo mai smesso di riprodurle ma probabilmente non ce ne siamo accorti e quindi raccontare anche il tema del lavoro in queste città è importante non solo per uno sguardo antiquario su queste città ma perché in fondo la domanda sull'antico è sempre fortemente radicata dal presente altrimenti come dicevano i due grandi nemici Vilamovitz e Nietzsche è l'antico l'antico non ha niente da dirci l'antico non ci parla se noi non riusciamo a vivificarlo col sangue delle nostre domande che sono fortemente intrise di contemporaneità quindi chiederei un passaggio a tutti e tre cominciando a Tiziana D'Angelo sul lavoro ecco sul tema del lavoro nel contesto della vita materiale di Pestum il lavoro a Pestum il lavoro che noi cerchiamo di raccontare è sicuramente appunto può essere il lavoro degli artigiani il lavoro appunto dei pittori per esempio quindi noi parliamo di persone perché queste opere noi tendiamo a vedere questi sono oggetti fondamentalmente oggetti monumenti però appunto quello che c'è dietro ovviamente sono delle storie in un certo senso di vita quotidiana quindi al di là della monumentalità dei templi pestani c'è tanta quotidianità anche a Pestum abbiamo comunque dei quartieri sappiamo molto insomma sui quartieri residenziali romani un po' meno ma comunque sempre di più sulle case greche però c'è tanta quotidianità anche a Pestum e quindi il lavoro si può raccontare in quel senso noi cerchiamo anche di raccontare un lavoro più recente nel senso che l'archeologia non è solo passato e questo secondo me è un elemento molto importante le persone che vengono a visitare questi siti come non è semplicemente appunto come 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 poteva essere in passato ho visto Ercolano sono stato Ercolano sono stato a Pompei sono stato a Roma fatto crocetta segnato procediamo prossima meta in realtà quando i visitatori arrivano vogliono scoprire che cosa si sta facendo quindi il lavoro di queste le storie di queste persone perché appunto con quella libertà di cui parlava Gabriel nel girare per l'area archeologica o per per il museo a Pestum anche a Velia insomma un sito ancora in un certo senso con una una configurazione passatemi il termine ancora più selvaggia in un certo senso in cui davvero alcuni nostri visitatori si perdono ma non si lamentano in realtà poi arrivano e dicono ah sì mi sono perso su quel sentiero però poi ho trovato ho visto la fonte vivele ho visto le terne eccetera però vogliono vogliono scoprire anche che cosa si fa tante volte dicono cosa state facendo ma avete già scoperto tutto ma non è già stato scoperto tutto non è già stato scavato tutto non so se lo dicono anche a voi a Pompei Ercolano ma non si sa non si sa già tutto e quindi noi secondo me in generale insomma nei parchi archeologici nei musei è importante anche raccontare il passato raccontando anche il lavoro delle persone che hanno contribuito a riportarlo alla luce gli scavi di Peston soprattutto nel nel novecento quindi ripensare alle figure di grandi di grandi archeologi ma anche il lavoro del nostro staff adesso quindi renderli sempre sempre più partecipi quindi per esempio abbiamo cantieri di scavo li raccontiamo quindi nel ovviamente per quanto è possibile in determinate occasioni giornate europee del patrimonio insomma per esempio però si aprono i cantieri allora si racconta ai visitatori il lavoro che stiamo facendo quindi che cosa stanno facendo gli archeologi che cosa abbiamo trovato e adesso dove vanno questi oggetti oppure appunto li portiamo li portiamo oltre il museo questo è il nome di un di un di un programma insomma che abbiamo di visita ai depositi e tra l'altro proprio nei depositi che recentemente abbiamo avuto un episodio di sindrome di Stendhal che tra l'altro appunto uno dice ah questo è sentita male noi tutti contenti no ma era abbiamo formato il personale di accoglienza e di vigilanza per condurre queste visite tra l'altro appunto una quindi una mia collaboratrice stava stava facendo questa visita e lei era talmente appunto partecipe lei talmente entusiasta nel raccontare questi spazi che normalmente non sono parte di un percorso di visita standard portarli a vedere qualcosa che in un certo senso non è una vetrina già ben definita non è un percorso confezionato e quindi aveva trasmesso poi questa emozione sotto un momento di panico non riusciva a respirare insomma drammi eccetera però lieto fine in questo caso sono stati attacchi cardiaci tutto a posto c'è stato un lieto fine però quello è anche un modo di portare i visitatori dentro al museo nel cuore del museo di dirgli che cosa stiamo facendo benissimo questi sono gli oggetti che ci sono qua adesso questo verrà restaurato quest'altro invece è stato in mostra perché alcune volte si pensa che nei depositi ci siano gli scarti ma nei depositi ci sono milioni di altri musei e quindi questa è un'occasione per raccontare del lavoro che stiamo facendo del lavoro che è stato fatto per esempio c'è una bellissima tomba dipinta sono delle lastre dipinte di quarto secolo sono moltissime lastre dipinte di quarto secolo nei depositi ma ce n'è una in particolare molto bella che era stato il pezzo principale di una mostra proprio inaugurata da Gabriele nel 2017 era quella sulle tombe dipinte e quindi adesso in questo momento non è parte dell'allestimento del museo ma portiamo i visitatori e quindi gli si può anche raccontare non sono potuti andare a quella mostra noi gliela raccontiamo questa tomba era appunto il pezzo centrale di questa mostra e quindi in un certo senso c'è anche quest'idea su quelle lastre dipinte si vede così tanto del lavoro degli artisti lucani per esempio perché in alcuni casi queste tombe venivano dipinte non in una bottega ma venivano dipinte proprio durante la cerimonia funebre durante il funerale che è una cosa che per noi è molto inconcepibile l'idea che tu hai un funerale e stanno decorando la tomba e ovviamente non era neanche pratica come soluzione perché sarebbe stato molto più semplice per il pittore dipingersi la sua lastra in bottega dopodiché le quattro lastre venivano portate nella la necropoli e venivano incassate nel terreno perfetto e invece no e quindi questa è l'idea proprio di una di questa performance artistica di questo lavoro artistico come molto più che semplicemente lavoro ma come parte in questo caso dell'ideologia funeraria anche e proprio per il fatto che venivano dipinte in situ questo vuol dire che per esempio se si metteva a piovere oppure se l'artista era un po' sbadato e dava una gomitata alla pittura mentre era ancora fresca noi vediamo le tracce e quindi vediamo dei segni per esempio sulle pitture e in un certo senso quindi c'è quella sensazione di star toccando davvero con mano il lavoro che era stato fatto da queste persone appunto 2500 2600 anni fa quindi intrecciare diciamo questo questo tipo di lavoro a quello che facciamo oggi quindi anche il restauro quindi il lavoro che noi stiamo facendo i pezzi quando dallo scavo dove vanno quindi che cosa gli succede prima che poi riemergano nella vetrina di un museo o riemergano appunto all'interno di una di una mostra quindi per me questa è un'occasione diciamo di pensare i visitatori sono tanto interessati al lavoro e alle persone diciamo della della pesto mantica quanto lo sono quanto sono lo sono anche del lavoro delle persone che vivono a Pestum adesso sono sono estremamente curiosi e renderli parte di di questo processo renderli parte delle nostre attività è anche un modo per generare un tipo di coinvolgimento diverso un tipo di coinvolgimento che poi può far comprendere che appunto il il passato cambia il passato viene rimodellato si fanno errori e va benissimo quando torneranno la prossima volta forse scopriranno che la tomba del tuffatore che la scena del tuffo ha un significato completamente diverso da quello che si è creduto fino ad ora quindi c'è c'è quest'idea di una di una continua trasformazione proprio attraverso le persone quindi la persona c'è più che appunto il lavoro la persona al centro quindi tra passato e presente Gabi beh trovo molto importante il riferimento alla schiavitù perché è uno di questi punti dove noi oggi spesso ci mettiamo sul piedistallo pensando di aver superato questa questa forma di barbarie di inumia umanità però come ha detto Gennaro Carillo esiste tuttora ed è presente non bisogna andare al lontano chissà quanti oggetti in questo in questa stanza questa sala siano frutto di lavoro di persone che vivono in una condizione quasi di schiavitù noi non lo vediamo per una separazione intervenuta tra lo spazio politico l'Italia l'Unione Europea che è lo spazio dei diritti e lo spazio economico che è globale e che va ben oltre questo spazio politico dunque abbiamo due discorsi scanciati uno è quello dei diritti che si limita allo spazio politico e l'altro è quello dell'economia dei prezzi dello sfruttamento che non conosce confini e dunque subentra sempre anche nello spazio che presuntamente sarebbe quello dei diritti io in un libro dove ho molto usato e forse anche abusato dei libri di Luciano Canfora ho cercato di dimostrare che questa separazione tra questi due spazi è il frutto di un'operazione che avviene nel quarto secolo nel platone non quello della Repubblica ma quello più tardi delle leggi e di Aristotele soprattutto che a loro volta sono figli di una società di colonizzatori che fanno questa distinzione a livello concreto c'è lo spazio politico la colonia con i aventi diritto che sono i cittadini maschi e c'è lo spazio economico che è estremamente vasto e comprende altre etnie ovviamente comprende delle donne comprende gli schiavi comprende tutte quelle figure invisibili nella concezione della polis in senso politico il cui status non è chiaramente definito tra indigeni greci e questo è anche una questione di spazio proprio geografico e dunque nell'antichità abbiamo un come dire una forma se vogliamo le radici di un pensiero che ancora oggi governa la nostra visione del mondo e Pompei è un caso molto interessante c'è una lunga discussione sul numero di persone che vivevano a Pompei che ovviamente ha delle implicazioni molto importanti sull'economia sulle condizioni di vita in questa città ultimamente cioè dopo diciamo così nel novecento vediamo un continuo abbassamento delle stime che arriva poi a otto mila persone mentre nel tardo ottocento ancora si parlava di quindici dodici quindici forse ventimila poi duemila diciassette una una scoperta bellissima di di Massimo Sanna che all'epoca dirigiva il grande progetto Pompei e in quell'ambito si fanno dei lavori si scopre una una tomba con l'iscrizione funeraria più lunga finora conosciuta Pompei il problema purtroppo non c'è il nome il nome era scritto su un'altra iscrizione ma probabilmente era una figura che pensiamo di conoscere ma appunto non è non è sicura al cento per cento ora questo signore inizia la sua commemorazione con il fatto una festa che lui dà in occasione della toga virilis dunque quando diventa adulta adulto lascia la toga pretexta che è quella dei bambini e indossa questa toga degli uomini e questo era il momento del passaggio dalla maggioretta in quell'occasione lui fa una festa per tutto il populus Pompeianus ora discute cosa significa noi pensiamo che significa i cittadini maschi cioè il popolo significava questo non era come oggi il popolo questo in antico si chiamava plebs leve il populus era una categoria giuridica per cui ancora oggi sui tombini di Roma c'è SPQR senatus populusque romanus dunque il popolo era la cittadinanza avente diritto al voto ora lui dà il numero di triclini ciascuno con 15 posti che aveva messo a disposizione per tutto questo populus e dunque si può fare un tentativo di calcolare il numero complessivo della popolazione i cittadini sono 6.840 se non erro allora adesso intervengono tutta una serie di probabilità noi pensiamo che la popolazione maschi i maschi adulti erano il 28% della popolazione si può discutere però è un valore che sembra plausibile dunque la popolazione totale libera inclusi donne e bambini era di circa circa 20.000 sappiamo però che poi c'erano anche schiavi c'erano i peregrini che in quell'epoca erano ancora tanti perché non era stata estesa ancora la cittadinanza a tutta la popolazione dell'impero questo avviene solo nel terzo secolo dunque tutte quelle persone di cui spesso abbiamo i nomi a Pompei che vengono dalla Siria dalla Grecia dall'Africa del Nord dalla Gallia che non erano schiavi avevano questo status tra cittadini e schiavi dunque non avevano diritto al voto non facevano ufficialmente parte del popolus dunque arriviamo a una cifra ben oltre i 30.000 le 30.000 persone poi c'è un altro grande dibattito tra noi archeologi e storici quanti vivevano in città quanti vivevano in campagna su questo adesso potremmo fare un altro convegno anche sul rapporto tra città e campagna che ovviamente nell'antichità era molto diverso rispetto a oggi detto in breve la campagna il territorio faceva parte a tutti gli effetti della città e questo da un lato vuol dire che non si può separare dall'altro lato vuol dire che era un po' una parte come dire meno molto meno ambita della città perché vivere in campagna era un po' una scelta una seconda scelta ovviamente questo non vale per chi si può permettere le terze le seconde le terze le quarte case come i ricchi romani a volte che avevano delle ville nel territorio di Pompei e di Castellammare via dicendo dunque una discussione molto complessa però alla fine esce fuori che Pompei ospitava solo all'interno delle mura una popolazione almeno di 20.000 persone e questo cambia radicalmente la almeno dal mio punto di vista il modo in cui possiamo dobbiamo leggere questa città e se uno va a Pompei lo consiglio veramente a tutti spesso io stesso la prima visita a Pompei uno va alle case più famose più importanti la casa del menantro la casa dei vetti la villa dei misteri però camminando per le strade da una casa all'altra che c'ha lì ha freschi i mosaici ci sono botteghe ci sono panifici ci sono a volte una singola un singolo ambiente però poi uno guarda e questo era al tempo stesso un luogo di lavoro e di vita si apre durante il giorno come un garage con un sistema di tavoloni che si inseriscono in dei binari e di notte si chiude rimane solo una piccola porta di notte appunto e a volte uno entra e vede che c'è un soppalco e poi c'è forse un altro piano dunque diventa una specie su dieci metri i quadri diventa una specie di torre riempita di persone noi abbiamo calcolato che c'è una media intorno alle quasi vicino alle due persone che dormivano in un ambiente in Pompei mediamente e questo viene anche confermato dagli scavi abbiamo non solo nei contesti diciamo bassi e medio bassi ma anche nelle case con affreschi con atrio le case ad atrio il resto che sono la casa romana se uno legge un libro di scuola la casa romana è la casa ad atrio in realtà a Pompei sono appena il 20% delle abitazioni di altri vivevano spesso in queste condizioni qua dunque lì si lavorava si viveva non c'è la cucina non c'è ovviamente il bagno non c'è la latrina spesso non c'è un riscaldamento dunque queste persone poi andavano mangiavano il pane soprattutto cioè quella cosa darci oggi il nostro pane quotidiano non è una metafora questa era la realtà di quei tempi che sono quei di Pompei in cui viene detta questa preghiera la prima volta dunque il nutrimento normale era il pane e poi chi si poteva permettere andava in uno di questi termopoli dunque una specie di street food non ci sono posti a sedere si prende il piatto mangia per strada o se lo porta a casa e sono insomma delle minestre delle zuppe delle cose cose varie dunque c'è tutto un mondo da scoprire chi aveva freddo ma anche nelle case di medio alto livello immaginate noi pensiamo sempre all'antichità come un un eterna estate perché guardiamo i film e tutti sono con la tunica e i sandali c'è sempre il sole ovviamente anche loro avevano l'inverno immaginate queste case alte con l'atrio che è aperto dove pioveva dentro d'inverno e dunque la gente andava i super ricchi avevano un piccolo impianto termale in casa e gli altri andavano nelle terme e c'è nel satiricon di Petronio romanzo del primo secolo non so chi chi la pensa diversamente ma penso che oggi è abbastanza accettata la datazione uno dice proprio io sono andato nelle terme per riscaldarmi noi pensiamo sempre guardiamo questi luoghi come una grande espressione dell'ingegneria romana del lusso a quei tempi dopo ci sono il buio medioevo in realtà era una più che altro una necessità la gente andava lì non tanto per lavarsi ma d'inverno per riscaldarsi e c'è anche lì una interessante discussione spesso ci sono l'impianto un po' più grande si dice queste saranno le terme maschili e quello più piccolo le terme femminili ultimamente stiamo discutendo forse c'erano le terme estate e le terme d'inverno che erano più piccole perché altrimenti non si riscaldava proprio grazie una rapida conclusione a Francesco Sirano il tema è attualissimo avete visto il tema dell'inscaldamento un tema di impressionante attualità anche questo Francesco a te la conclusione non sembra una cosa impegnativa ma comunque mi sembra che appunto sia emerso come questi luoghi siano dei luoghi di lavoro intenso guardando appunto al lavoro dei luoghi che guardano soprattutto al futuro tutto quello che noi facciamo è in realtà davvero niente di più lontano da una visione antiquaria che era quella spesso anche strettamente legata forse conviene concludere riprendendo un attimo quella suggestione metaforica di Gennaro cioè queste tre sorelle morte perché in realtà queste morti diciamo il pericolo di vita di queste povere esiti sono sottoposte a questo pericolo più volte sono state sottoposte a questo pericolo una volta per quanto riguarda noi vesuviani dal dal vesuvio in maniera così ma poi anche in età moderna ci sono stati tanti momenti in cui la loro vita è stata messa in pericolo l'esempio di Pompei con il grande progetto Pompei poi una spesa preceduta poi sempre questo ma fatto tutto un momento di grande proprio poco prima che partisse il grande progetto di grandi lavori che hanno ristabilito la stabilità dei tempi ad Ercolano noi abbiamo l'arrivo della fondazione Packard a partire dal 2001 che affianca il sito senza dare soldi ma aiutando a mettere in campo strategie sono dicevo delle esempi di come la mentalità sia completamente cambiata e una gestione molto che guardava all'ombelico molto che cercava di reagire alle problematiche invece che prevederle ha messo in pericolo tante volte la vita e la vita di questi siti e noi quando eravamo nel grande progetto Pompei dove ci siamo riconosciuti sia io che Gabriel trovavamo nell'archivio delle leggi speciali che si chiamava invece di grande progetto Pompei si chiamava progetto grande Pompei degli anni 80 varie volte sono stati messi in pericolo da che cosa? da una cosa che è stata anche messa in evidenza dagli studi dell'UNESCO che dicono che una delle cose che mette più in pericolo la conservazione dei siti così importanti per le umanità non sono i terremoti non sono le alluvioni non sono la mancanza di fondi ma è l'incapacità di gestione e devo dire uno degli se vorressimo dare un epitafio a questa nostra una conclusione a questa nostra serata direi che davvero una delle grandi novità è proprio questa idea di accountability di responsabilità con cui ognuno di noi in siti che sono diversi e complementari portiamo avanti l'idea di stabilire un futuro sostenibile sotto tutti i punti di vista avete visto anche con tutte le scoperte le riflessioni che ognuno di noi poi ovviamente fa scientifiche ma da tutti in tutti a 360 gradi per cercare questi patrimoni di portarli in avanti nel tempo affinché qualcun altro possa sia subire la sindrome di Stendhal nel futuro sia poter raccontare la storia di queste allegre sorelle morte grazie e allora grazie ai nostri tre ospiti Gabriele Sussrigel Tiziana D'Angelo e Francesco Sirano sono sicuro vi avranno non vi sarete spaventati è stato un bel incontro ma vedo che si è concluso senza incidenti di rilievo e quindi sono sicuro che vi sarà venuta voglia di visitare in vivo ecco questi questi parchi archeologici meravigliosi è stato bello che vi abbiano trasmesso anche la grande passione oltre che il grande rigore di un lavoro difficile ma anche piuttosto piuttosto bello e fascinoso grazie grazie a tutti veramente grazie grazie a tutti